Musica Ultima ora, Lombardia chiusa, la gente si trasferisce verso il sud, caos, alla stazione di Milano, il presidente inaccettabile. Nella tarda serata di ieri sera arriva una decisione drastica da parte del governo. Chiusa la Lombardia, non si può né entrare né uscire. Chiusi palestre, piscine, musei, scuole, teatri, centi benessere e i centri commerciali possono essere solo aperti da lunedì a venerdì. Si uscirà dalla regione Lombardia solo con permersi in caso di emergenza. Nella notte il presidente del Consiglio Conte ha tenuto una conferenza stampa. Queste misure, dice il Premier, provocheranno disagio. Ma questo è il momento dell'autoresponsabilità, non de fare i furbi, tutelare soprattutto la salute dei nostri nonni. Queste sono le ultime notizie.